Ciao, sono Simona Frapporti, ho 24 anni e vengo dalla Venone, un piccolo paese in provincia di Brescia. La passione per il ciclismo è nata all'età di 6 anni e mi è stata trasmessa da mio fratello Marco. Mi reputo una ragazza fortunata perché da qualche anno questa passione è diventata la mia professione. Il 2012 per me è stato un anno importante, ho raggiunto molti risultati, tra i quali la vittoria a una tappa della Rue de France e due titoli ai campionati italiani in pista, nell'inseguimento individuale e nella velocità olimpica insieme alla mia compagna di squadra Giulia. Queste vittorie le devo anche alla squadra perché mi ha sempre supportato, dal team manager ai preparatori, alle ragazze. Il 2013 sarà sicuramente un anno importante e sono sicura che si svolgerà al meglio perché siamo un ottimo gruppo.